Un impasse di non poco conto quella che ha dovuto affrontare in questi ultimi giorni la regione Abruzzo, proprietaria di uno dei più importanti impianti sportivi d'Europa, l'Enaia, di per il quale a breve scadrà il contratto con la Progetto Sport e il bando per la Progetto Financing non è ancora partito. Per evitare l'interruzione di pubblico servizio, i dirigenti regionali di concerto con il presidente Vicario Lolli hanno messo a punto una serie di misure che andranno a garantire il regolare svolgimento dell'attività almeno fino a giugno 2020, quando nel frattempo dovrà essere già stata nominata la società o il pool di società che andranno ad occuparsi della gestione. Intanto è stato chiesto alla Progetto Sport, che ha manifestato responsabilmente disponibilità, di continuare a lavorare normalmente fino a marzo, poi attraverso un affidamento diretto sul quale Abruzzo Sviluppo sta già lavorando, una o più società sportive che già usufruiscono dell'impianto, ne sono complessivamente otto, andranno a garantire una gestione temporanea d'emergenza in un periodo legato però all'anno agonistico che si conclude a giugno. Da cui la necessità di stabilire il termine a giugno 2020 va da sé che l'utenza non potrà sottoscrivere abbonamenti con l'attuale società dopo marzo e che i circa 29 lavoratori potranno proseguire la loro attività senza rischiare uno stop. Parallelamente la Regione ha già definito tutta la procedura per quel che riguarda il bando di Project Financing, su quale però, come spiega Giovanni Lolli, dovrà decidere solo la Giunta regionale che si insedierà dopo il 10 febbraio. Noi non arriveremo fino al punto di fare il bando perché non siamo in tempo per farlo e perché mi pare ragionevole e giusto lasciare che sia la nuova Giunta a poi prendere questa decisione. Tuttavia abbiamo già fatto la due diligence e abbiamo già indicato il RUP e quindi metteremo la nuova Giunta quando si insedia trova tutta la procedura avviata e deciderà solo se portarla avanti o meno. Siccome il Project poi, qualora si scegliesse questa strada, richiede un tempo almeno di un anno, forse anche di più, si tratta di capire cosa avviene in questo periodo. In questo periodo transitorio noi abbiamo deciso, così come la legge regionale e anche recentemente la legge nazionale prevedono, di privilegiare l'attribuzione provvisoria attraverso naturalmente una procedura pubblica a una o più società sportive dilettantiste, come avviene la stragrande maggioranza di impianti simili in tutta Italia.